Non è possibile... Come fa un mezzo idiota come te a continuare a vincere? Chi sei veramente? Beh, io sono uno che non vive ancora da mamma e papà. Siete stanchi? C'è una gang di ninja spaziali mutanti nel settore di Corpus. Forse dovremmo prima consegnare il signor Giorgo le autorità e ridarti una reputazione. Oh sì, giusto. Posso almeno avere un Viva la Q-Force? No. Uno solo. Ho detto no. Ratchet? Eh? Va bene. In fondo te lo meriti. Uno, due, tre... Viva la Q-Force! Già avremmo fatto meglio a provare.